La pelle dell'orso È un romanzo per ragazzi, anche se diciamolo ormai, questa è anche una definizione un po' obsoleta, sbagliata, perché c'è questa tendenza degli adulti a leggerli poi i romanzi per ragazzi. Allora, anzitutto devo dire che per la copertina dobbiamo omaggiare, fare i complimenti a Guido Scarabottolo, che è l'artista e il grafico che si occupa proprio della grafica, della copertina di Guanda. Per quanto riguarda la definizione romanzo per ragazzi, io non sono d'accordo, questo è un romanzo anche per ragazzi, questo è un romanzo, cioè io faccio il narratore, faccio lo storyteller e mi rivolgo a tutti. Io quando scrivo amo definirmi un narratore popolare, credo che vada riscoperta un po' questa dicitura, la narrativa popolare. E tra l'altro devo dire che quando scrivo un romanzo, per l'appunto, amo rivolgermi a tutti, quindi dal ragazzo di 14 anni a mio nonno, per dire, no? E quindi devo dire che tra l'altro, da questo punto di vista, sto avendo delle soddisfazioni, perché... Ecco, ho venuto parecchi spunti per delle domande. Il libro è ambientato in Veneto, sulle Dolomiti addirittura, quindi c'è sia il discorso in quanto riguarda l'ambientazione, ma c'è anche molto riferimento linguistico, perché gli oggetti, strumenti, vengono nominati con nomi antichi, verrebbe da dire, e però a che punto che restano ancora vivi grazie al dialetto, che però è usato soltanto in questo caso in zone abbastanza remote del Veneto, detto con rispetto, naturalmente. Certo, beh, qui siamo in un'ambientazione che è molto particolare, perché Colle Santa Lucia, cioè il paesino dove è ambientata questa storia, questa vicenda, è in realtà una terra di confine, una terra molto affascinante anche per questo, perché si sentono un po' ladini, un po' tedeschi, un po' veneti, un po' trentini, un po' altoatesini, e questo è anche uno degli aspetti più affascinanti. Qui siamo nel 63, quindi questa mescolanza in realtà, per paradosso, era ancora più sentita, perché da un punto di vista storico appartenevano all'Austria, però poi erano passati sotto l'Italia, insomma, quindi la cultura ladina la mantengono tuttora, perché in realtà quello non è dialetto ma è ladino, che è una lingua antichissima. E poi sì, le Dolomiti bellunesi e soprattutto la storia tra un padre e un figlio. Però prima di arrivare a questo, io volevo dire questo, le Dolomiti bellunesi, sì, io amo raccontare in tutti i miei romanzi il territorio veneto, ma non tanto per un'affezione particolare, ma perché è il territorio che conosco, cioè io non mi ci vedo a raccontare una storia in Alabama, piuttosto che nel nord dell'Ucraina, cioè io conosco questo territorio e quindi io credo che per raccontare ed essere credibili sia necessario ambientare le storie che si vogliono scrivere nei posti che si conoscono. Il libro è dedicato alle tue figlie, la storia è il rapporto tra un padre e un figlio, padre che è l'unico genitore per questo bambino, all'inizio non è che va tutto proprio liscio il rapporto tra i due, ma si sa, poi dopo naturalmente il rapporto tra padre e figlio non è sempre così facile, ci sono degli step da superare, ma poi c'è anche questo aspetto avventuroso, perché è un romanzo d'avventura. Ma dici benissimo, questo è un romanzo d'avventura e questa è la cosa che affascina di più, soprattutto il pubblico più giovane, quelli meno avvezzi alla lettura, i lettori cosiddetti deboli, però va anche detto che dietro questa patina di romanzo d'avventura si nascondono delle cose, a mio modo di vedere, molto più profonde e l'opportunità di leggere questo romanzo in chiavi e in cifre anche alternative. Ovviamente quelle più importanti secondo me sono quella relativa al romanzo di formazione e quella relativa al romanzo di iniziazione. Tu parlavi del rapporto padre-figlio, è vero, è fondamentale ed è una cosa che non ha tempo, non ha tempo, perché se vogliamo questo rapporto può essere letto ancestralmente, in chiave fiabesca, ma oggi, ancora oggi, i genitori e i loro figli, che siano adolescenti, che siano più giovani, meno giovani, comunque hanno un rapporto molto spesso problematico e a volte conflittuale, questo lo sappiamo. Ecco, ultima domanda sul libro, poi ti faccio altre due domande invece che sono due curiosità che voglio togliermi. Ecco, l'orso che vanno a cacciare appunto questo padre e questo figlio, in realtà chi è? Cosa vuole rappresentare? Ma allora, anzitutto va detto che questa caccia all'orso non rappresenta nulla contro gli animali, anzi è stato definito da diversi critici uno dei romanzi, se non il romanzo più ecologista di questo 2013 finora, perché qui siamo di fronte... Se non sbaglio forse ricordi Herzog, l'autore ciliasa... Ma assolutamente, The Greatly Man... Io credo che questa cosa ti avrà in qualche modo... Ma in un certo qual modo sicuramente, ma vedi, qui siamo di fronte a una... Poi non vorrei svelare troppo il romanzo, però siamo di fronte a un orso che di fatto è una realtà fisica, un bestione, diciamo la verità, fa paura, e soprattutto il ragazzino, questo 12enne, è, come dire, animatissimo ed entusiasta, no? Di partire all'avventura con il padre, un padre burbero alla caccia di questo animale. Ma di fatto, sotto sotto, questo orso non rappresenta nessun pericolo. Il pericolo è rappresentato dagli uomini e dall'operato degli uomini. In questo senso c'è un profondo messaggio ecologista e lo vediamo alla fine. Ma tra l'altro l'orso, che cos'è anche, no? L'orso è, come dire, un capro espiatorio. Quanti sono gli orchi che nella nostra vita inseguiamo? O quelli che in qualche modo ci fanno delle paure, ci trasmettono delle paure? Beh, un po' questo è l'orso, metaforicamente. Certo, due battute veloci invece su altro. Savanna Padana, diciamo, è stato il libro che ti ha lanciato, no? Di fatto, sì, che ti ha fatto fare quel salto. E c'era un po' questa definizione, ha tornato a una scrittura, una scrittura pulp. Anche qui, voglio capire, è una cosa che decide lo scrittore di far parte di una certa... di un certo genere? Oppure sono poi le case editrici che, come le case discografiche, decidono di collocarti in un settore o un altro nel mercato? Assolutamente la case editrice, ma ancora più che la case editrice sono i critici. I critici sono spaventati dall'idea di non riuscire a collocare un romanzo, di non definirlo, di non etichettarlo. Quando si trova un narratore puro, un battitore libero come sono io, perché secondo me la letteratura, la narrativa e la scrittura sono prima di tutto un atto di libertà e di liberazione. Allora, quando uno scrittore non si colloca in un genere, allora è chiaro che con molta fatica viene accettato e appunto depositato in uno scaffale dell'arbireria piuttosto che in una recensione critica. Per esempio, Savannah Padana stessa, in realtà è stata definita un noir, è stato definito un crime, un pulp, ma non è nulla di tutto ciò. È un romanzo. Cioè, poi alla fine, io sono uno storyteller, te l'ho detto, quindi anche La pelle dell'orso ha cifre stilistiche, toni, argomentazioni completamente diverse. Ma che cos'è? Anche prima abbiamo detto romanzo di iniziazione, sì, romanzo d'avventura, sì, romanzo di formazione, sì, ma alla fine della fiera è un romanzo. È un romanzo, è una storia bella da raccontare. Savannah Padana, allora per dirla tutta, la definizione più bella che ha avuto è stata quella di polenta western. E piace anche a noi, devo dire che chi l'ha trovata questa soluzione ha trovato la soluzione giusta. Noi ti ringraziamo davvero, speriamo di ospitarti ancora prossimamente con altri libri. Ci piace parlare di libri, ci piace parlare di un libro come La pelle dell'orso, poi l'orso per noi ha un valore affettivo perché è uno spazio sociale a Trento, si chiama proprio l'orso e quindi si chiama proprio Bruno come l'orso. E quindi a noi ci piace questa cosa. Ricordarla ancora di più, quindi mandiamo anche un abbraccio se sicuramente qualcuno ci sta seguendo anche da là. E noi ti ringraziamo, La pelle dell'orso trovate nelle migliori librerie d'Italia. Anche nelle peggiori. E quindi naturalmente anche nella nostra che è appunto situata qua vicino. Beh la nostra è la migliore di tutte. Assolutamente. Va bene, siamo così. Ti ringraziamo davvero. Grazie a te, grazie a te. Un abbraccio, noi ci prendiamo per una clip, poi torniamo perché facciamo un'escursione in territori stranieri e poi invece torniamo in Veneto con Ernesto Milanisi sui ospici, parla di teatro, tante cose.